Veniamo per un attimo alla classifica della Serie D a questo punto, diamo un'occhiata subito qui, poi nel dettaglio andiamo ad analizzare dopo. Lo che dicevo in apertura, vedete, se una settimana fa appunto si festeggiavano le vittorie di tutti, adesso siamo qui invece a dire, a raccontarci di come le cose si siano nuovamente inguaiate. Con il Trento in questo momento dentro la griglia dei play-out appieno, finisse oggi, sarebbe comunque sfida con il Ciserano, mentre il draw sarebbe retrocesso e servirebbe a stabilire chi tra Lumizzane e Scanzorosciate andrebbe a giocarsi appunto il secondo turno dei play-out e chi invece sarebbe salvo. No, sarebbe salvo, in questo momento sono condannate Romanese e Grumellese per se sono ultime e penultime. E il draw perché non può spareggiare avendo più gli 8 punti di distacco. Il draw può sperare di vincere le prossime due partite e andare a 36, ma a 36 ci può arrivare anche il Ciserano e questo è il grave problema. Perché gioca ancora una partita. Che oggi avendo vinto ha guadagnato 3 punti, è in vantaggio nello sconto diretto. Se va a 36 vincendo il mes che gli manca contro il Lumizzane, che è quasi salvo. Però tieni presente che se il Lumizzane è Scanzorosciato la prossima. Sì, ma a 43 punti sei praticamente salvo. Perché la, diciamo, la sest'ultima, che potrebbe essere o il draw o il Ciserano, cioè la quarta ultima, scusa, arriva praticamente al massimo a 36 punti. Ne aggiungi 7 per poter fare lo spareggio a 43. Fino a 43 rischi, a 44 sei a posto. Esatto. Quindi è durissima. Per assurdo se ne sarebbe ancora. A 44 sei matematicamente salvo e le squadre sono lì vicine, giocano fra di loro. Qualche pareggio le salva tutte e due. C'è uno Scanzorosciato e Lumizzane, mi pare, al prossimo turno. Ma, e poi, sì, diciamo che delle sconfitte di oggi tendenzialmente è quella che... No, è l'ultima Scanzorosciato e Lumizzane. La prossima è Ciserano-Lumizzane. La prossima non riposa. Ah, Ciserano riposa l'ultima. Riposa l'ultima. Sì, sì, sì. Quindi se vince, va a 36, il draw magari riuscisse a vincere i due derby, andrebbe a 36, però è pari al Ciserano. Sì, ma negli scontri... Ed è un distacco, ma non per la differenza di reti, negli scontri diretti che è pari, che però con i gol di trasferta lo condannerebbe. Quindi sarebbe praticamente terzo, da terzo ultimo non spareggi se hai più di 7 punti. Vabbè, vediamo adesso. A 36 se quegli altri vanno a 44 sei fregato. Beh, vediamo. Al momento comunque quindi, ricapitolando, perché ho visto che anche sui social... Insomma, al momento, ripetiamo, ripeti tu che sei il conduttore, al momento... No, insomma... No, ripeti tu visto che hai capito. No, no, io non sono all'altezza. Al momento finisse oggi... Finisse oggi... Allora, se torniamo sulla classifica, perché se non l'abbiamo... Comunque, vabbè, se riusciamo a... Vediamo un po' cosa stiamo... Vediamo se riusciamo ad avere le... Eccoci qua. Allora, finisse oggi... Grumelese e Romanese sarebbero retrocesse assieme al DRO. Esatto. Perché non accederebbe ai play-out, in quanto ha più di 8 punti di distacco dalla sest'ultima. Perfetto. Mentre Ciserano e Trento, in questo caso, spareggerebbero. Perfetto. D'accordo? Giocando a Trento. Diciamo che, allora, il Trento, anche facendo due vittorie, andrebbe a 43. Sì. A 43... Potrebbe non... Sicuramente spareggi. Sì. No, sicuramente spareggi. Perché una delle due, o DRO, o Ciserano, vedrai che ci arriva a 36. Addirittura. Ma il Ciserano c'è una partita sola per giunta... Sì, ma non è che può perdere il Lungazano. Vabbè, se arriva a 36, a quel punto... Tu dici che il DRO farà due vittorie nelle prossime due gare? No. Allora non arriverebbe il Trento a 43. Allora no. Però se le facesse. No, però il Trento difficilmente a questo punto può evitare i play-out. Esatto. Molto difficilmente. Perché deve sperare che... Cioè non dipende più... Allora mentre la settimana... Scansolosciate perde a partite imprevedibili. Mentre la settimana scorsa il Trento aveva il futuro nelle proprie mani... Adesso dipende dagli altri. Sì, è quello che stavo dicendo prima. Al Trento oggi sarebbe passato un punto per avere ancora delle possibilità di dipendere solo da se stesso. Di evitare un po' le cose. E nelle confitte odierne quella che io proprio non mi sarei mai aspettato è questa del Trento. Per diversi motivi. Poi ci sarà anche il gancio che non riguarderà solo il Trento. Però giocava contro un Crema che mercoledì ha fatto la semifinale di andata contro il campo d'Arsico di Coppa Italia. Che ha tenuto... Il miglior giocatore è l'attaccante con 10 gol pagano e squalificato dopo aver vinto il derby. Queste sono le immagini. Ha tenuto in panchina un altro giocatore che è il secondo giocatore più forte. Mercoledì prossimo al ritorno. Fondamentalmente non serviva a loro la vittoria. Perché bastava anche un punto al Crema. Io ero assolutamente convinto che oggi il Trento avrebbe quanto meno pareggiato. Ora le immagini io le ho viste. Qualche occasioni e soprattutto un salvataggio sulla linea il Trento l'ha avuta. Però poi... Se andiamo poi a vedere, con i gol anche presi, capirete che qualcosa... Esatto. Questa è in assoluto la sconfitta che io non mi aspettavo. Ero assolutamente certo che almeno un punto l'avrebbero fatto. Anche alla luce di quello che hanno fatto vedere domenica scorsa e a Grumello due domeniche fa. Invece tolto Bardelloni, perché se tu guardi tutte le azioni partono da lui, è Delenda Est. Cioè proprio senza di lui è entrato uno zecchinato che non so se fa apposta. Ma non esiste. E Bardelloni che salta all'uomo e prova a essere pericoloso. Quindi allenatore, non allenatore, la situazione è sempre la stessa. Questa per quanto riguarda il Trento. Inoltre i cambi sono stati decisivi. Mi ha raccontato Avancini che era a Crema e che ho sentito prima. Praticamente ci sono state tre sostituzioni da una parte e dall'altra. Quasi contemporanea e diciamo delle due squadre ne ha tratto giovamento. Questa è una grossa occasione di Costadinovic. Questa è stata pagata sulla linea. Su Costadinovic, esatto. E praticamente insomma quelle del Crema sono state decisive. Perché Capuano che era appena entrato ha segnato il gol che ha sbloccato la gara. E dopo nel finale, al 41esimo, sono riusciti anche a fare il raddoppio. Però se tu guardi ha sempre Bardelloni. Se non ci fosse lui non esiste un pericolo costruito in maniera armoniosa. Cioè il primo gol del Crema è un'azione che tu vedrai corale. Invece qua è sempre palla lui sperando che. Tant'è che poi le tre partite che era mancato, mi ricordo con l'espulsione, il Trento aveva perso. O comunque non aveva vinto neanche una delle tre insomma. La speranza è che il buon Bardelloni riesca a partire la domenica prossima. La speranza dico per i tifosi del Trento. Questo derby, Trento-Dro, il Levico giocherà contro un Crema già salvo in casa. E spero vivamente che riesca a chiudere definitivamente la questione. perché poi l'ultima c'è Levico e c'è Dro Levico. Mentre il Trento sarà fuori casa col Ponte Sant'Isola. Intanto, allora grazie ovviamente alle immagini della pagina Facebook del Calcio Trento. Ma continuiamo a vederlo perché arrivano i gol adesso. Qua è Zecchinato che, come vedi, non è partito titolare neanche oggi. Ecco questa è un'azione di squadra. È un'azione costruita e concretizzata in un certo modo. Arrivata dietro e... Le riprese non sono... No, non so, le riprese sarebbero chiare. Questo è il gol di Capuano che era in campo da pochi minuti. E poi c'è il raddoppio di Mantovani, anche lui. Su punizione. Una punizione, tra virgolette, scusatemi, una punizione più che parabile. E guardate la barriera del Trento. Dove va a mettersi. No, no, guardate se c'è qualcuno che salta. Più che dove va a mettersi. Guardate. Vediamo un po'. Nessuno. Palla, tra l'altro, parabile. Anche il portiere. Sì, ma se salti la prendi quella palla. Scena composta. No, no. Sì, dai. Qualche tensione da scaricare. Per loro voleva dire salvezza. Si sono vinti tutti e due i derby. Sì, loro sono matematicamente salve. Insomma, si sono vinti i due derby con la Pergolettese. Sono in semifinale di Coppa Italia. Quindi avranno di che esultare. Ci mancherebbe altro. Hanno cambiato tre allenatori anche loro. Esatto. Tutto sommato hanno avuto una stazione tribolata. Sì, sì, sì.